Le immagini a volte servono più delle parole perché attraverso un'immagine si può ricordare un momento storico particolare, si può ritornare indietro appunto con la mente e si può riflettere su fatti che hanno caratterizzato la nostra storia. Ed è attraverso le immagini che questo pomeriggio i giovani della Cisla hanno voluto parlare di un tema molto importante, ossia del rapporto che c'è fra i giovani e la mafia, attraverso un noncino incontro sulla memoria e il coraggio civile. La proiezione ha visto come protagonisti racconti di vita che nascono dal dolore che si fa a memoria, da testimonianza, coerenza, coraggio civile dove la parola diventa ricordo, coscienza, impegno e partecipazione. Nei documentari importanti infatti sono stati proiettati, documentari importanti soprattutto in un paese come l'Italia che per varie ragioni inclina a dimenticare, rimuovere, occultare il passato scomodo. A partecipare a questo incontro tra gli altri anche Don Piero Sapienza, direttore dell'Ufficio di Occesano per i Problemi Sociali del Lavoro e Antonio Perdichizzi, presidente dei giovani imprenditori di Confindustria Catania che hanno parlato con i giovani presenti. Noi come associazione giovani della CIS abbiamo organizzato questo cortometraggio per non dimenticare proprio perché, dato che ci sono stati i vent'anni della strage o comunque della morte di Falcone e di Borsellino, abbiamo voluto ricordarli così con un pensiero, attraverso un documentario, proprio perché attraverso le testimonianze delle persone che hanno avuto a che fare ovviamente con questa vita abbastanza brutta, possiamo imparare e quindi anche non dimenticare e ricordare delle grandi persone come Falcone e Borsellino e anche altre persone che hanno dato tanto per noi.